Questa mattina a Monticchio, davanti alla sede dell'azienda, hanno scioperato i corrieri della seda Logistic e Mea Solution, impiegati nell'affidamento GLS all'Aquila a causa dei ritardi negli stipendi. Ieri i lavoratori si sono uniti in assemblea in CGL ed esaminata la difficoltà aziendale, determinata unicamente dai ritardi nei pagamenti della committente GLS l'Aquila, che sta producendo un ritardo insostenibile nell'erogazione degli stipendi, hanno deciso di portare avanti una prima azione di sciopero per tutta la giornata, con un presidio. Si tratta di una ventina di autisti che hanno scioperato tra uomini e donne. La situazione è insostenibile perché non si riesce più ad andare avanti, anche perché si tratta di un lavoro che va morto e che ha avuto un incremento negli ultimi tempi. Abbiamo dei ritardi nei pagamenti degli stipendi di questi lavoratori, l'ultimo stipendio erogato è quello di dicembre, tra l'altro in due tranche, quindi gennaio, febbraio e siamo a marzo, sono senza retribuzione. Un paradosso di un pezzo di economia del Paese, che è quello che è maggiormente esplosa, quindi quella delle consegne a domicilio, questi sono quelli che vengono a casa nostra ogni giorno e non vengono retribuiti. Dove si inceppa il meccanismo? Purtroppo è qua il locale concessionario di GLS perché ha ritardi nei pagamenti alle imprese appaltatrici che ovviamente al caduta non possono pagare i dipendenti. Questo è sempre il meccanismo, è sempre il solito meccanismo degli appalti e subappalti che purtroppo in questo Paese genera povertà assoluta. Per molte famiglie questo è l'unico reddito. Purtroppo la nostra problematica è come di tutti i lavoratori che lavoriamo per lo stipendio per mantenere le nostre famiglie, per dare una vita dignitosa alle nostre famiglie, ma venendo meno a questo già viene a mancare la dignità perché c'è i problemi, difficoltà di pagare bollette, pagare le cose di routine che magari in una famiglia si fa. Far mancare anche qualcosa ai ragazzi, ai figli perché ti fanno delle richieste che tu, ma richieste che vanno a scuola e magari tu non hai la possibilità al momento di farlo, di ottemparare alle loro richieste. Quindi è una situazione abbastanza difficile e non era più sostenibile. A noi è l'unica fonte di reddito è questa. Ci viene a mancare questo, ci è venuto a mancare tutto. Insomma, non riusciamo più ad andare avanti. Se siamo arrivati a questo punto è proprio perché siamo arrivati non all'esasperazione, ma non riusciamo più a avere pure problemi la mattina a prendere 50 centesimi al caffè alla macchinetta, io non mi vergogno, ho 50 anni, mamma mi dà i soldi per comprare le sigarette e non è una dignità di una persona di 50 anni che lavora e andare a mamma.